Il Green Pass riaccende lo scontro politico all'interno della maggioranza di governo tra le diverse forze politiche, anche e soprattutto dopo la presa di posizione dell'Associazione Nazionale dei Presidi Italiani che incontrando il ministro all'istruzione Bianchi dichiarano Green Pass non solo a professori e personale ma anche agli studenti che possono farlo per riaprire la scuola a settembre e alternative per i non vaccinati. L'obiettivo del governo è il ritorno a scuola in presenza. È assolutamente necessario, afferma il ministro, che tutto il corpo docente che ancora non si è vaccinato lo faccia entro l'inizio dell'anno scolastico per ridurre al minimo il rischio di contagi e scongiurare l'ennesima chiusura degli istituti. Se non sarà garantita la soglia di sicurezza di personale immunizzato si potrà valutare l'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale per la categoria degli insegnanti. Le condizioni per un rientro duraturo e in presenza dipendono dall'esito della campagna vaccinale per il personale della scuola e studenti. L'alternativa è la didattica a distanza, lo conferma Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi, che spiega come a livello nazionale l'85,5% del personale scolastico risulta vaccinato. L'obiettivo di tutto il governo è la riapertura in presenza a settembre, ma è chiaro che oltre al personale scolastico serve anche l'obbligo di vaccino per gli studenti, ma bisogna valutare le alternative per i non vaccinati. Se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la DAD, anche se sarebbe difficile evitare disparità di trattamento.